Ciao, sono Patrick Sheriff e oggi vediamo in quattro punti il secondo canto dell'Inferno. Ti ricordo che per capire appieno il significato di questo canto è indispensabile conoscerne il significato letterale, per il quale ho fatto un video specifico. Cominciamo. La prima cosa da dire riguarda il proemmio. Il secondo canto dell'Inferno, infatti, si presenta come primo canto della Cantica dell'Inferno, mentre il primo canto dell'Inferno era il primo canto dell'intera opera. Dunque è naturale che nel secondo canto ci sia il proemmio. In questo proemmio Dante autore enuncia il tema della sua opera ed invoca le muse per assisterlo nel racconto del suo viaggio. Le muse tradizionalmente erano nove sorelle considerate divinità minori, ognuna delle quali era protettrice di un'arte specifica. I poeti epici come Omero o Virgilio invocavano una sola musa, Calliope, che era appunto protettrice della poesia epica. Dante invece invoca tutte le muse, come se per la composizione della sua comedia avesse bisogno di tutte le arti. Dante invoca anche il suo alto ingegno. L'atto poetico si presenta così come una sintesi tra le dotti naturali del poeta e lo studio delle arti retoriche, ossia come una fusione tra Ingenium e Ars. La seconda cosa da dire riguarda Enea e San Paolo. Dante prima di intraprendere questo viaggio incomincia ad avere dei dubbi, in quanto si ricorda che altri personaggi prima di lui, come appunto Enea e San Paolo, hanno intrapreso un viaggio nell'aldilà. Enea infatti nel sesto libro dell'Eneide era sceso negli inferi per parlare con suo padre Anchise, mentre San Paolo era stato rapito nel terzo cielo, come leggiamo nel capitolo 12 della seconda lettera ai Corinzi. Enea e San Paolo sono due figure centrali nella tradizione classico cristiana. Enea infatti è stato fondatore di Roma, che poi in futuro diverrà centro dell'impero e futura sede del papatto. San Paolo invece ha avuto un ruolo centrale nella diffusione del cristianesimo e ne ha fissato i primi fondamenti teologici. Il confronto con queste figure è per Dante impiettoso e Dante non si sente alla loro altezza. Anzi, pensa che il viaggio che sta per intraprendere sia un viaggio folle, non autorizzato da Dio, e per questo pericoloso per la sua salvezza. La terza cosa da dire riguarda le tre donne. Virgilio, per convincere Dante a intraprendere il viaggio, gli racconta di come Beatrice sia giunta nel limbo per convincerlo ad andare ad aiutare Dante smarrittosi nella selva oscura. Beatrice ha lasciato il suo scanno sotto suggerimento di Santa Lucia, la quale a sua volta era stata chiamata per aiutare Dante dalla Vergine Maria. Queste tre donne sono allegoria della grazia. La Vergine Maria è allegoria della grazia preveniente che aiuta l'uomo a prevenire le sue libere azioni. Santa Lucia è allegoria della grazia illuminante che aiuta l'uomo a discernere il bene dal male. Beatrice è allegoria della grazia cooperante o santificante che aiuta l'uomo a compiere il bene. Virgilio spiega a Dante che sarà Beatrice a fargli da guida nel paradiso, paradiso dove lui non può entrare. Questa scena ha un profondo significato allegorico in quanto indica che la ragione di cui appunto Virgilio è allegoria non basta per ottenere la beatitudine eterna. Serve invece la grazia santificante di cui Beatrice è allegoria. E senza la grazia santificante ogni percorso di redenzione fallisce. La ragione dunque è subordinata alla grazia santificante. In questa prospettiva Beatrice è anche allegoria della teologia e della verità rivelata, grazie alla quale è possibile ottenere le virtù teologali, ossia fede, speranza e carità, grazie alle quali si può raggiungere la salvezza. Queste tre donne si pongono in contrapposizione alle tre fiere che abbiamo incontrato nel primo canto. Infatti se nel primo canto a impedire il viaggio di Dante c'erano tre fiere, adesso a permettere il viaggio di Dante ci sono tre donne. Allegoria di tre diverse declinazioni della grazia. L'ultima cosa da dire riguarda Dante come eroe dell'ingegno. Il viaggio di Dante è autorizzato dalla grazia divina, allegorizzata dalle tre donne. Dante così va ad aggiungersi come terzo membro a quella triade illustre che ha varcato l'aldilà, affiancandosi dunque ad Enea e a San Paolo. E come Enea e come San Paolo anche Dante ha un importante compito da svolgere per beneficiare all'umanità. Infatti Dante dovrà raccontare ciò che ha visto in modo tale che gli uomini siano motivati a cominciare un cammino di redenzione. Tuttavia la figura di Dante si discosta da quella di Enea e da quella di San Paolo. Enea infatti si distingueva per le sue doti da guerriero e per quanto faceva in battaglia. San Paolo invece per la sua militanza religiosa. L'eroismo di Dante è invece molto diverso da quello di Enea e di San Paolo. Dante infatti è stato scelto per il suo ingegno che gli ha permesso di distinguersi dagli altri uomini. Infatti grazie al suo ingegno Dante è riuscito ad uscire dalla volgare schiera divenendo così un modello per gli altri uomini. Con questo concluso ti ricordo che è indispensabile conoscere il significato letterale del canto per comprenderlo appieno e ti comunico che ho fatto un video dedicato al significato letterale. Se vuoi studiare con me ti lascio il link in descrizione iscriviti al canale e noi ci vediamo alla spiegazione del terzo canto in bocca al lupo.